Ciao a tutti della vostra Benedetta Parodi e siamo qui per la ricetta estiva. Purtroppo ho avuto un problema nel video prima, sono venuto tagliato e quindi devo partire dalla fine, perché nel frattempo ho preparato la ricetta. In ogni caso vi dico brevemente come è stata composta. Abbiamo tagliato dei cubotti di anguria e pomodoro e li abbiamo intinti nei semi di sesamo. Dopodiché li abbiamo lasciati solamente un po' da parte con dell'aceto balsamico. Intanto ho preparato la crema verde che si vede sotto, che è composta da polpa di avocado e formaggio bianco e limone. Abbiamo fatto una cremina di tutto questo, ci abbiamo aggiunto un po' di sale e alla fine come guarnizione ci abbiamo messo della cipolla e sopra ci abbiamo messo del carpaccio di spada e un po' di basilico. Ecco, questo è un piatto fresco, estivo, facile da preparare, forse non buonissimo, però non a tutti piace l'avocado, a me non è che piace, lo faccio impazzire, però è un'alternativa ai soliti piatti. Ciao, buona estate! Grazie a tutti!